Lo aveva detto a Strasburgo appena lo scorso luglio incontrando la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola. Lo ha ribadito anche ieri in una lunga nota per smentire ancora una volta qualsiasi presunta ambiguità sulla politica estera dei fratelli d'Italia. Intendo guidare un governo con una linea chiara e inequivocabile, scrive Giorgia Meloni. L'Italia è a pieno titolo e a testa alta parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare un governo. L'Italia non sarà mai l'anello debole dell'Occidente, scandisce la leader. Parole di impegno non nuovi per i fratelli d'Italia sanciti di recente dalla visita di Adolfo Urso, più che probabile prossimo Ministro della Difesa, a Kiev. Un segnale di vicinanza al governo ucraino, ma anche di impegno assunto pubblicamente di continuare a sostenere, come chiesto da Zelensky, l'invio di armi anche da parte del nascente governo di centrodestra. Patto di fatto rinverdito dalla nota di Meloni alla vigilia della salita al Colle, con gli alleati Salvini, Merlusconi e delegati dei partiti di centro. Oggi si passa dalle parole fatti, commenta Lupi di noi moderati. Giorgio Meloni ha dimostrato senso delle istituzioni e chiarezza di linea. Fugato ogni possibile dubbio, la diretta interessata anche oggi è concentrata sulla squadra dei ministri da presentare al capo dello Stato, se come appare scontato riceverà l'incarico di fermare il governo, che potrebbe presentarsi alle camere già mercoledì. E sulle caselle da mettere ancora a posto taglia corto. L'ultima parola spetta a me.